Buongiorno amici e amiche di RB Radio, RB e TV, sono Claudio Petronella, siamo in diretta e qui ora dal mercato di Pinerolo in piazza Vittorio Veneto, quella che è comunemente definita piazza Fontana, vicino a noi il municipio, accanto a noi il nodo concept space che si ospita anche in questa terza trasmissione di RB dal mercato. Insomma abbiamo tanto da raccontarvi amici e amiche che passeranno a trovarci per presentare quello che avverrà nei prossimi giorni qui a Pinerolo, noi non vediamo l'ora di condividere la nostra trasmissione con tutti e tutti voi, scriveteci al 328 8757 845 oppure contattateci attraverso i social, invitiamo gli amici che passano vicino a noi a non farci video bombing, sei stato in diretta con noi, in diretta radio grandissimo, grazie, arrivederci, tra poco i primi ospiti con noi per raccontare quello che avverrà proprio nel fine settimana imminente, il primo e il due di giugno con la notte delle muse, tra poco qui su RB Radio, RB e TV da Pinerolo. Via con me, lui era Paolo Conte con noi qui su RB Radio, RB e TV nella nostra postazione in piazza Vittorio Veneto, vicino al nodo concept space di Pinerolo, vicino al municipio di Pinerolo, al mercato di Pinerolo che in questo momento sta proponendo i suoi colori, i suoi sapori, i suoi profumi e i rumori, i suoni che noi cerchiamo di riportare e gli incontri, gli incontri che amiamo raccontare su RB Radio e RB e TV in questa trasmissione a Caffè Bleu. Noi amiamo ricercare la bellezza nutriente nel nostro programma, come e in che modo? Attraverso gli incontri, attraverso ciò che accade intorno a noi da vivere, per toccare con mano questa bellezza. Il sabato, primo di giugno e domenica, due di giugno, a Pinerolo torna la Notte delle Muse per presentare questo appuntamento. Abbiamo chiamato qui con noi Luciana Canoci. Ciao Luciana. Ciao. Ben arrivata su RB e bentornata in realtà su RB per presentare la Notte delle Muse, appuntamento 2024, con questo evento ormai diventato fisso nel calendario di Pinerolo. Appuntamento primo e il 2 di giugno, qual è il filo conduttore di quest'anno e soprattutto poi spiegheremo che cos'è la Notte delle Muse. Allora, l'appuntamento di quest'anno, 1 e 2 giugno, l'1 dalle 21 alle 24 e il 2 di giugno dalle 16 alle 19, racconterà la Belle Epoque nella città di Pinerolo. Bello. E quale miglior cornice della città di Pinerolo per raccontare la Belle Epoque? La Belle Epoque, quindi l'epoca del Liberty, la Belle Epoque, insomma, è sempre un qualcosa che evoca la bellezza, evoca l'eleganza, evoca il fascino della Belle Epoque. Assolutamente, ecco. Tutto questo viene nell'ambito della Notte delle Muse, questo appuntamento che vede aprire al pubblico le strutture museali di Pinerolo, che ricordiamo, ce ne sono 7 o 8. E' assolutamente gratuita, nella gratuità, quindi un valore aggiunto e anche un incoraggiamento per i visitatori. Ecco, per scoprire i musei di Pinerolo, ricordiamo, sono 8 strutture museali civiche e private che si uniscono per questo appuntamento. I musei si animano, Luciana, che cosa avverrà? Adesso non possiamo ovviamente raccontare tutto il programma, ma possiamo dire, ad esempio, che cosa potremo vivere o qualcosina? Allora, partiamo da Palazzo Vittone, ad esempio, dove c'è già una mostra, una mostra che è assolutamente da vedere. Perché da vedere? Cosa propone? Allora, propone tre sale, la mostra che ha inaugurato il 12 di maggio dal titolo Personaggi e interpreti, paesaggi e figure, che ha appunto due sale dedicate ai paesaggi, alla ritrattistica e la terza sala dedicata a Sandro Kerchi. Io invito tutti i visitatori a venirla a vedere. E che durante la notte delle musei avrà un allestimento particolare dedicato a materiale pubblicitario risalente proprio al periodo. Io ricordo che alla notte delle musei si può, e se è possibile, visitare i musei anche in un orario notturno, non consueto, insomma. E poi, soprattutto, si potrà assistere a dei veri e propri spettacoli, delle vere e proprie performance all'interno dei musei. È confermato anche quest'anno? Assolutamente sì. A Palazzo Vittone ci sarà, ad esempio, l'esibizione del Marco Varvello Manostrio, all'entrata proprio di Palazzo Vittone. Quindi ci saranno traghettati all'interno di questa mostra. Benissimo. Quindi attraverso la musica. La musica, ci sarà appunto un traghettamento all'interno della mostra e poi è l'uscita, perché le esibizioni si ripeteranno durante tutte le due serate. Ok, quindi le due giornate sono sabato 1 e domenica 2 di giugno, a partire dalle 21, quindi dalle 9 di sera del sabato fino a mezzanotte per il sabato e poi la domenica dal pomeriggio. Esatto. Sono previsti diversi spettacoli, diversi incontri che uniscono le arti, perché le muse di cui sopra, di cui il titolo, sono le muse dell'arte. Esatto, esatto. Poi c'è una mostra nella Proloco di Pinerolo, a cura di Amplenair. E Villa Prever, che è risalente al 1910, è stata costruita in stile Belle Epoque, Liberty Belle Epoque, in cui ci saranno due esibizioni. Due esibizioni, il primo di giugno a cura di Son Le Ciel, che è un trio, jazz, e poi il 2 di giugno ci sarà l'orchestra aperta, 15 elementi. Ottimo, quindi tanta musica e rievocazione storica intorno a Liberty. Tra le strutture museali, in chiusura della nostra checcherata, Luciana, ci sarà anche il Museo della Cavalleria? Assolutamente sì, dove ci sarà un'esibizione teatrale. Quindi il teatro a museo? Assolutamente, perché durante la notte delle muse ci saranno esibizioni teatrali, musicali, anche l'architettura. Ricordiamo la Cavalleria Caprilli, che sarà appunto illuminata da un'illuminazione luminosa. Quindi tutto il programma della notte delle muse, Luciana, dove possiamo trovarlo? Perché sono tanti gli appuntamenti e non possiamo fare l'elenco adesso, però possiamo dare qualche coordinata a chi ci ascolta e ci guarda su RBI. Allora, tutto il programma è visitabile sul sito della città di Pinerolo, sul turismo Torino, anche all'ufficio del turismo di Pinerolo. E poi voglio ricordare appunto che ci saranno due visite prenotabili. Ah, vabbè sì, essendo aperti i musei si potrà anche scoprire attraverso delle visite guidate. Assolutamente, so già che però quella di sabato è sold out, quindi sono... Ah, domenica allora. Sì, domenica. Insomma, ci sono tanti motivi per partecipare alla notte delle muse 2024, sabato 1 e domenica 2 di giugno. Conoscete i musei di Pinerolo? Non li conoscete? In ogni caso lasciatevi guidare da questa esperienza che unisce arte con la musica, la danza, quindi tutte le arte. Le sette muse, sono sette le muse, non mi ricordo più. Sì, sì, sono sette. Le sette muse, le arte che sono celebrate da questa notte delle muse organizzate dalla città di Pinerolo con Fondazione Poeta del Ponte e con la struttura, insomma, dei musei civici di Pinerolo. Abbiamo parlato di questo bel progetto con Luciana Canocci che ringrazio. Grazie Luciana per essere stata con noi. Grazie a te Claudio. Amici amiche di RB, torniamo in onda dal mercato di Pinerolo in questo mercoledì 29 maggio. Cosa state facendo in questo momento? Siete qui con noi, ci state guardando o ascoltando in radio FM e DAB o su RBA.T oppure in TV, canale 87 digitale terrestre, insomma, qualsiasi cosa facciate. Spero che il programma di RBA con piacere di condurre e spero, insomma, possa farvi una piacevole compagnia. Lions Club con noi, ospiti per presentare la 10.000 degli ECAIA. Abbiamo con noi Dario Sasso. Buongiorno Dario, ben arrivato. Buongiorno, buongiorno. Con noi anche Verano Chiale. Buongiorno Verano. Buongiorno a noi. Bene arrivati su RBA, la 10.000 dell'ECAIA, undicesima edizione, insomma, abbiamo avvercato il traguardo delle 10 edizioni l'anno scorso. Venedì 31 maggio, a partire dalle 20, ci sarà questo appuntamento della 10.000 degli ECAIA. Ma innanzitutto, chi è che organizza questo appuntamento, Dario? Lions Club? Il Lions Club è Pinerolo ECAIA, che fa parte dell'associazione di volontariato più grande al mondo, che conta più di 1.400.000 associati, opera in 200 paesi e annovera, fra i suoi soci, il numero di soci sono circa 49.000. Quindi opera sostanzialmente nei servizi di assistenza alle problematiche mondiali, i problemi del mondo, quali la fame, la problematica della vista, quindi tutto quel che riguarda le malattie della vista, le malattie in genere, e poi ovviamente tutti quelli che sono le problematiche ambientali, che ovviamente colpiscono il nostro paese. Quindi un'assistenza alla persona, con la P maiuscola. Con la persona, con la P maiuscola, sì. Bello, mi piace. E tra questa attività, Dario, c'è anche appunto la 10.000 della CAIA, in questo caso voglio introdurre Verano, una manifestazione podistica non competitiva, rivolta davvero a tutte e a tutti, direi, proprio tutte e tutti. Sì, il compito dei Lions è di creare dei service che possano permettersi di raccogliere dei fondi che poi noi andiamo a destinare per quelle che sono le esigenze, sia territoriali che comunque dove ci sono delle difficoltà. Uno di questi service è appunto la 10.000 della CAIA, che è nata 11 anni fa, e con questa manifestazione noi pensiamo di portare in piazza, venerdì sera, oltre 1.500 persone. Questo ci permetterà di devolvere sul territorio un po' di soldi per alleviare le difficoltà, insomma. Ecco, questo è un po' uno degli obiettivi dei Lions, anche in questo caso la 10.000 della CAIA diventa un mezzo, sia per creare inclusione, per creare servizi alla persona, attraverso l'attività fisica, insomma, questo è un po' anche uno degli obiettivi sicuramente. Ci sono diversi percorsi o c'è solo un percorso, Verano? Allora, quest'anno abbiamo aggiunto un percorso, abbiamo aggiunto un percorso che a noi piace molto, perché l'abbiamo chiamato percorso inclusivo, dove ci saranno delle persone che potranno essere non autosufficienti, che potranno venire con la loro carrozzina, accompagnati da qualcuno che le accompagna, e questo sarà il percorso più corto da 3 km. Poi c'è la camminata da 5 km, e poi ci sono quelli che si misurano anche con il tempo da 10 km. Sarà solo a Pinerolo, oppure raggiungere anche i paesi vicini a Pinerolo? Allora, il percorso è sempre molto carino, perché parte da Piazza Vittorio Veneto, passa su Pinerolo, va fino giù verso la Madonna Fatima, fa il Pinerolo Storica, sale San Maurizio, e poi per chi, quelli che fanno la corsa da 10 km, vanno fino a San Pietro Vallemida, quindi toccano un altro comune, ritornano da giù e l'arrivo è di nuovo qua. Dario, questo evento della 10.000 della Caia, come dicevo prima, è aperto a tutte e a tutti, davvero a tutte e a tutti, perché vedo dall'immagine che faccio vedere in tv, chissà se il regista me la può mostrare, vedo anche una sagoma color fucsia meravigliosa. Non solo quindi esseri umani, ma anche i nostri amici a quattro zampe. Gli amici a quattro zampe sono i benvenuti, oltretutto quest'anno abbiamo organizzato un'area loro riservata, quindi con abbeveramento, con anche qualche biscottino, diciamo così, che per loro è sempre un piacere, quindi farà gradire particolarmente la 10.000 degli Acaia, e è inclusiva, quindi come diceva giustamente Verano, che è responsabile del comitato sportivo del Pinerolo Acaia, e ovviamente è per tutti, non è competitiva per le famiglie, per i minori accompagnati, assolutamente per tutti. Ecco, quindi questo è necessario capirlo, è per tutte e per tutti, anche insomma non è necessario correre anche una camminata, va benissimo, esserci e partecipare e poi tenere presente qual è l'obiettivo finale, insomma quello di fare del bene a se stessi, camminando o correndo, e poi dando il proprio contributo. È possibile iscriversi Verano, anche nella sera dell'evento, cioè venerdì 31 maggio? Certo, certo, penso che è molto via. Eccoci, vediamo un po', poi... Cambio un attimo col microfono. Certamente, ci si può ancora iscrivere venerdì, le iscrizioni saranno sempre qua in piazza, aperte dalle ore 15 fino alle 19 circa, dove si chiuderanno le... Prima della gara, insomma. Prima della gara, della camminata, manifestazione, troviamoci tutti insieme per questo appuntamento della 10.000 della Caglia, che abbiamo presentato insieme ai nostri ospiti, c'è molto bello sul logo dei Lions, We Serve, noi serviamo. Questo è qualcosa, Dario, in chiusura, vorrei chiudere questo nostro intervento, ricordiamo, ecco, perché? Sì, questo sì, è il nostro motto, We Serve, ovviamente, come sempre, in tutte le associazioni, da soli non si fa nulla, ma insieme possiamo fare molto, quindi sicuramente questa è una cornice di questa manifestazione, raggruppa un po' tutta la filosofia, appunto, condivisione e soprattutto solidarietà. Allora, prima di ricordare anche gli appuntamenti, l'animazione che ci sarà per la 10.000 della Caglia, voglio anche ricordare le associazioni che insieme a voi, come Lions, fanno parte, ci sono gli amici della Poloco, il Corce Verde, associazioni varie che sono segnate qua, non possiamo ricordarle tutte perché sono tante, ma noi le vogliamo davvero tanto, tanto bene. Sarà una vera prima festa, Dario, perché ci sarà anche musica, una festa. Sarà una festa, come dico, è il bello di stare insieme, per uno scopo ovviamente nobile, ma ovviamente ci sarà la parte conviviale, post manifestazione, il pasta party, ecco, non può mancare, non può mancare. Va bene, vi diamo appuntamento quindi a venerdì 31 maggio, già dal tardo pomeriggio, insomma, sarà allestita la piazza, poi fino alle 19 circa sarà possibile partecipare, iscriversi, e alle 20 partirà, insomma, si prevedono miglia, insomma, deve essere un mille e più. Oltre 1.500, come diceva giustamente Verano poco fa. Io vi ringrazio, ringrazio Verano e ringrazio Dario per essere stati con noi, un saluto agli amici di Lions Club Pinerolo a Caia, appuntamento per la 10.000 della Caia, qui su RBE abbiamo presentato questo appuntamento che si tratterà venerdì 31 maggio. Vi aspettiamo. La rappresentante di lista con Paradiso, ed è un paradiso per me essere qui, davvero, non sono parole, ma è realtà, perché è un piacere poter portare la radio e la TV in piazza, la TV e la radio di RBE, Radio Beckwith, RBE TV, canale 87, digitale e terrestre, su rbe.it, l'audio e video streaming, per poter guardare e ascoltare quello che accade in questo momento, quando sono le 11.45 minuti circa, qui dalla piazza Vittorio Veneto, accanto al municipio, ma anche accanto al nodo Concept Space. e ho il piacere di presentare una delle artiste, delle artigiane, che fanno parte di questo collettivo di nodo, con noi Alessia Baral, Collages o Collage? Collage. Collage, avevo due possibilità, è arrivata la terza. Collage About Me, Alessia Baral, ciao Alessia. Ciao, ciao a tutti, piacere. Ben arrivato su RBE, Alessia. Dunque, innanzitutto, presentiamo il collettivo nodo, il nodo Concept Space, è uno spazio che già da alcuni anni, insomma, è presente qui, nella piazza centrale, Pierolo, piazza Vittorio Veneto, tante realtà artigiane rinchiusi in un unico spazio, anche se in realtà rinchiusi non è bello, perché in realtà è molto aperto, in realtà sia al pubblico, ma anche ad altri artigiani. Sì, noi siamo un collettivo di 11 fra artisti e artigiani, o meglio artisti e artigiani, perché 9 su 11 siamo donne, e sì, in realtà non è chiuso, perché in realtà è un luogo che si presta alla sinergia, alla connessione con altre tantissime realtà, e io sono contentissima di farne parte, ormai da quasi due anni. Due anni che sei parte del nodo Concept Space, un luogo che è un punto di ritrovo, non solo per mostrare i prodotti artigiani, ricordiamolo, quindi con un'anima diversa, rispetto a un prodotto industriale, realizzato con un concetto, con un'idea, con un design, insomma, con tanti spunti, insomma, ogni prodotto ha una sua storia, evidentemente. e tra poco scopriremo anche il tuo modo di lavorare e di mettere in pratica il saper fare artigiano. Insomma, in questo spazio ci sono anche dei corsi, quindi chi partecipa, chi entra al nodo, può non solo essere spettatore, spettatrice, ma anche artefice. Assolutamente, una delle, diciamo, tre cose principali che offriamo da nodo è appunto la possibilità di tenere workshop, o meglio, di partecipare e tenere, nel caso in cui uno voglia anche organizzare il proprio laboratorio, ma diciamo che una delle cose che si possono fare è appunto partecipare ai laboratori. In particolar modo, abbiamo una giornata al mese dedicata interamente ai workshop, che è il terzo sabato del mese, quindi a giugno sarà il 15 di giugno, in cui si potrà sperimentare con l'arte del macramé. Avremo due corsi, base e avanzato, ma tutti incentrati sulla stessa arte. Cos'è il macramé? Io ne immagino l'uomo della strada che sta vicino. Allora, io non me ne intendo, ma diciamo che, sì, è un intreccio di fili, è un, diciamo, da nodo, ci sta bene il macramé, perché è la creazione di nodi, per la creazione di gioielli, ma ad esempio, se io penso al macramé, penso ad esempio alle strutture portavaso, da appendere per i vasi, e ci sarà questo doppio appuntamento, per due livelli diversi, quindi base e avanzato, 15 giugno, sabato 15 giugno. Sabato 15 giugno al mattino, c'è il workshop base, poi nel pomeriggio, quello avanzato. Insomma, ci sono tanti appuntamenti, io qua vicino a me, anzi, in mano, in questo momento, ho la locandina, con tutto il calendario di giugno, con, appunto, i laboratori, c'è il Fresh Market. Il Fresh Market, che cos'è? Allora, il Fresh Market è un evento firmato nodo, che teniamo il primo sabato di ogni mese, ed è concepito un po', non solo come una giornata di market, in modo da poter vendere a tutti gli effetti la propria arte, il proprio artigianato, ma è una giornata un po' di festa. Infatti adesso, sfruttando l'arrivo della bella stagione, avremo nel pomeriggio anche musica dal vivo, e possibilità di bersi un bicchiere di vino. Quindi, sarà una giornata di festa, e siete tutti invitati. Bello, quindi insomma, un luogo di ritrovo, un incubatore di idee che si apre al pubblico, qui a Pinerolo, in piazza Vittorio Veneto, vicino al municipio di Pinerolo, e al mercato, insomma, del mercoledì e del sabato. Sì, infatti, Fresh Market riprende anche proprio l'idea del mercato del sabato, esatto. Certo, certo, quindi, dalle 17 di sabato, primo giugno, con gli indaco che suoneranno qui, appunto, poi ci sarà anche un aperitivo, insomma, con Intu the Wine. Esatto, e trovate tutte le indicazioni anche sui social, forse tra poco diremo tutto. Un ultimo appuntamento di questo mese, che attrae la mia attenzione, ci collega anche al discorso legato alla bicicletta, al prossimo passaggio del tour, e il workshop, quindi il laboratorio, Velo Lab. Sì, una giornata extra, questo mese. in previsione del passaggio del Tour de France, ci sarà una seconda giornata dedicata ai laboratori, e quindi la possibilità di mettersi in gioco anche con discipline, artistiche, attività che uno non ha mai sperimentato prima, e ci saranno tre laboratori a un prezzo ridotto, grazie al contributo della città di Pinerolo, uno per i bambini, due, diciamo, per lo più per gli adulti, in cui ci si potrà provare, ad esempio, acquerello naturalistico, incisione su Tetra Pak, e in generale sarà una giornata di workshop. Allora, adesso io vorrei scoprire qual è il tuo ruolo, cioè che cosa proponi a nodo, cioè nel senso, come è nata questa idea dei collage, perché i collage, ecco, tra l'altro come forma di espressione? Allora, mi sono approcciata ai collage nel 2021, ma prima ancora ho iniziato banalmente a decorare, io tengo tantissimi quaderni, agende, sono un po' maniaca dell'organizzazione, ho iniziato a decorarle attraverso fotografie, che banalmente ho incollato, e ritagliavo con le forbici, e incollavo con la colla, quindi nella maniera più banale e semplice che uno possa pensare, e ho intravisto della potenzialità all'interno di questa tecnica, e allora ho iniziato a tenere un nuovo quaderno dedicato solo ai collage, ed è sfociato alla fine in un susseguirsi di cose bellissime, posso dire, perché è poi quello che mi ha portato a far parte del collettivo nodo. Qui hai, infatti abbiamo dei quaderni che riportano una tua cifra stilistica, che richiama sia la natura, ma non solo la natura. Perché la natura? Beh, la natura perché arte e natura sono due componenti, posso dire, fondamentali della mia persona, e grazie ai collage sono riuscita a unirla all'interno di un solo ambito, perché appunto mantengo una vena artistica creativa attraverso la creazione dei collage fatti a mano, ma allo stesso tempo mantengo anche diciamo l'avena naturalistica, perché appunto tutti i miei collage sono fortemente a carattere naturalistico, botanico e zoologico, se vogliamo, perché piante, animali, insetti e funghi, sono tutto... Prima abbiamo parlato di Belle Epoque, di questo tema della Notte delle Muse, e si ritrovano un po' alcuni dei temi neoclassici quasi, no? Sì, perché vado a riprendere quelle che io chiamo le mie damine, perché vado a integrare i miei collage con dei soggetti che estrapolo dalle opere d'arte del 1800, che se vogliamo poi queste fanciulle estrapolate dalle opere d'arte immerse in questi contesti naturalistici sono poi la rappresentazione di me stessa, se vogliamo, perché in un modo o nell'altro mi ci rivedo. Collage about me, questo è il tuo profilo Instagram, tra l'altro, ti si trova anche così? Sì, esatto, collage scritto al plurale, lo specifico. Collage about me. Allora, questo è il concetto del nodo, è un concetto molto interessante che abbiamo avuto modo finalmente di spiegare con una delle artigiane presenti qui al nodo. Ecco, per avere tutte le informazioni su nodo in chiusura, Alessia, per avere tutte le informazioni sull'attività, su cosa... Ma allora, c'è il sito ufficiale, se non la pagina Instagram o Facebook, oppure vi invito a venire direttamente all'interno del polo di artigianato di nodo, tutti i sabati con apertura da negozio, quindi dalle 10 alle 13, dalle 16 alle 19 ci sarà sicuramente qualcuno del collettivo che è di turno quel giorno pronto a spiegarvi e togliervi tutti i dubbi. Ok. Il presidio artigiano di Pinerolo qui accanto a noi, il nodo Concept Space, alle nostre spalle c'è questo spazio molto colorato, vivo, che apre il pubblico il sabato, ma anche con tanti altri appuntamenti che vi abbiamo presentato qui su RBI con Alessia Baral che ringraziamo. Alessia, io ti auguro buon lavoro. Grazie tante, buon proseguimento. Grazie tante. Sono quasi le 12, quasi mezzogiorno qui in diretta, siamo in diretta con RBI Radio, RBI TV da Piazza Vittorio Veneto alla piazza del mercato di Pinerolo ogni ultimo mercoledì del mese RBI in diretta dal mercato di Pinerolo una trasmissione in onda dalle 11.15 circa fino alle 12.30 in replica a partire dalle 23.00 11.00 del mattino 11.00 della sera con voi in queste dirette che vogliamo insomma rendere speciali attraverso gli incontri che vi proponiamo per raccontare quello che accade a Pinerolo e noi amiamo farlo soprattutto con coloro che sono protagonisti che offrono tante possibilità di poter vivere la città di Pinerolo da tanti punti di vista. Uno dei appuntamenti che riguarda Pinerolo nel prossimo futuro in questa imminente estate 2024 è l'arrivo, il passaggio del Tour de France questo sarà uno dei temi di cui parleremo in questa diretta poi anche nella prossima il mese prossimo di giugno ma parliamo dell'attualità abbiamo con noi il presidente della Proloco di Pinerolo Andrea Roggia Andrea bentornato ciao Claudio buongiorno a tutti ti ringrazio per l'invito che oramai sta diventando un appuntamento fisso e fa molto piacere che ci dai la possibilità di proporre le nostre iniziative i nostri eventi ma io amo il discorso Proloco penso che sia davvero fondamentale in un paese come Pinerolo in paesi più piccoli più grandi insomma ritrovarsi per organizzare qualcosa per dargli il proprio contributo e la Proloco insomma dal 1957 attiva a Pinerolo parliamo di attualità Andrea ci sono diversi eventi che riguardano Proloco Proloco Pinerolo come motore organizzativo di diverse attività della città di Pinerolo ecco per il mese di giugno so che ci sono diverse novità alcune conferme come la notte dedicata ad esempio dei Deor quando partirà questo appuntamento estivo ormai è diventato un rito ormai dell'estate a Pinerolo esatto allora noi siamo pronti speriamo che lo sia anche il tempo e si parte non possiamo si parte il 15 giugno 5 sabati 15 22 29 giugno 6 e 13 luglio 5 dati dei Noti dei Deor format classico si chiuderanno le strade Corso Torino Piazza Barbieri via Saluzzo oltre alla giunta del centro storico che è già pedonalizzato i locali potranno mettere i tavolini e ampliare i Deor in strada abbinato a questo possono fare musica DJ set o concertini live quindi la città di Pinerolo si apre al pubblico con i Deor dei tanti esercenti che fanno parte di questa rete 5 sabati consecutivi partendo dal 15 di giugno ce n'è uno in particolare che vorrei ricordare con te Andrea e ci ricolleghiamo il discorso del passaggio imminente del Tour de France che torna a Pinerolo insomma diverse volte già in passato anche quest'anno 2024 torna il Tour de France ci sarà un appuntamento particolare una serata particolare dedicata al Tour esatto il 29 giugno all'interno di Noti dei Deor sarà la serata aspettando il Tour notte gialla aspettando il Tour oltre a classico format ci saranno a livello strutturale possiamo dire così 8 archi gialli di palloncini gialli che oltre ad abbellire e a colorare la città saranno anche dei punti danza delle scuole di danza in più nella zona dell'incrocio di Corso Torino dove c'è la gelateria veneta per intenderci lì ci sarà un gruppo di musica che farà canzoni occitane musica e ball gli occitani due amici di due gruppi che fanno il carnevale che in questi anni abbiamo imparato a conoscere che sono i Patelavache di Nichelino e gli amici del Pellice ci forniranno due carri allegorici statici uno sarà la bici gigante con i colori del Tour e invece gli amici del Pellice ci faranno proprio un carro a tema gemellaggio Pinerolo Parigi quindi sarà un carro che avrà una testa del cavallo a simboleggiare Pinerolo la Tour Eiffel la bicicletta al podio vivere l'atmosfera e l'attesa del Tour che sarà appunto a inizio di luglio poi qualche giorno dopo il 2 luglio se ricordo bene ma ne parleremo ancora ovviamente partendo ad esempio da una delle notte del Deor 29 di giugno già l'altato pomeriggio prima serata si potrà assistere a queste animazioni dalle 18 a l'una di notte perfetto quindi insomma la possibilità di vivere la città di Pinerolo attraverso questo legame storico con il Tour che si rinnoverà anche quest'anno hai parlato di musica ci sono progetti aggregativi che riguardano la musica che Proloco so che vuole spingere che vuole promuovere ecco c'è uno in particolare vero? esatto è un progetto che si è fatto fino agli anni 2000 e poi l'anno scorso insieme alla banda Ana di Pinerolo ho deciso di riproporre perché sono delle bellissime serate semplici anche da organizzare ma con un ottimo risultato e che alla cittadinanza piacciono il titolo è la banda di quartiere due mercoledì in cui la banda Ana di Pinerolo invece di fare le prove al chiuso alieta la cittadinanza in giro per i quartieri quest'anno le due location sono il Veloce Club il mercoledì 19 giugno anche perché quest'anno ricadono i 130 anni del Veloce Club quindi era importante farlo lì e poi il 3 luglio sul sagrato della chiesa di San Lazzaro quindi insomma c'è un calendario davvero fitto che riguarda il mese entrante quello che sta arrivando quello del giugno 2024 tra la primavera e l'estate qui a Pinerolo abbiamo avuto piacere di presentare queste iniziative e le attività di promozione culturale della Proloco e questo è la fine aggregazione e promozione culturale non è banale ricordarlo a mio parere per diventare volontario per far parte di questo di questo motore organizzativo per dare proprio contributo a Proloco come possiamo fare Andrea? Beh allora ci sono le tre giornate in cui l'ufficio della Proloco Palazzo Vittone su piazza Vittorio Veneto 8 è aperto che sono lunedì pomeriggio il venerdì pomeriggio e il mercoledì mattina si può passare lì oppure basta passare lì chiedere il mio numero di telefono mi contattate e c'è sempre bisogno di una mano Proloco il Pinerolo anche sul sito della città di Pinerolo anche sul web c'è il sito dedicato a questa bella realtà presente anche sui social su Facebook e su Instagram Andrea roggia con noi la notte gialla è dedicata al tour il 29 di giugno a tante altre attività come la notte di Deor che avranno luogo e partiranno dal prossimo 15 di giugno grazie Andrea per essere stato con noi ti auguro buon lavoro buon estate grazie a voi amici e amiche di RB ancora buongiorno a tutti e a tutti quando sono le 12 16 minuti circa in diretta qui ora su RB Radio RB e TV da piazza Vittorio Veneto la piazza Fontana così nota ai pinerolesi e alle pinerolesi in questo momento si sta svolgendo il mercato del mercoledì come già è una tradizione insomma siamo tornati già un mese fa all'ultimo mercoledì del mese anche questo mese di maggio ci vede protagonisti con i microfoni e le videocamere di RB Radio di RB e TV un appuntamento fisso quello dell'ultimo mercoledì del mese meteo permettendo ovviamente l'attività e la voglia insomma di RB e Radio TV di raccontare quello che accade a Pinerolo e dintorni e l'abbiamo fatto finora raccontando diverse realtà che sono passate a trovarci nella nostra postazione qui vicino al nodo concept space al municipio abbiamo raccontato quello che accadrà insomma nei prossimi giorni partendo dalla notte delle muse dalla possibilità di poter scoprire Pinerolo da un altro punto di vista Pinerolo come non l'avete mai vista con un bel punto esclamativo così recita il volantino del welcome tour della città di Pinerolo organizzato dal turismo torino e provincia con noi Barbara Albis di Pinerolo Barbara buongiorno buongiorno ciao Claudio buongiorno a tutti ben ritrovata su RBA welcome tour il tour del benvenuto con il mio inglese maccheronico però insomma voglio sottolineare questo perché a me piacciono le parole e mi piace il benvenuto il tour di benvenuto Pinerolo come non l'avete mai vista il benvenuto in città è un modo anche di mettersi nei panni insomma di coloro che aprono le proprie porte di casa e offrono la mano a chi non l'ha mai visto la città o magari vorrei riscoprirla sì allora il welcome tour è proprio un un programma di turismo torino come hai detto giustamente che è l'ente del turismo del nostro territorio loro hanno questa credo che sia la terza edizione di welcome tour che fanno in ogni città di loro competenza quindi innanzitutto torino quindi si svolgono normalmente a torino e poi in alcune città dei dintorni Pinerolo credo che sia il secondo appunto anno o terzo e quest'anno abbiamo deciso appunto di collaborare realizzando dei tour un po' particolari appunto mettendo dentro un po' di cose del nostro territorio magari meno conosciute per attirare l'attenzione in modo appunto anche curioso quindi stiamo lavorando abbiamo programmato questi tour sono 12 in tutto su tutto il 2024 come associazione Made in Pinerolo e con l'associazione Consorzio Vittone che appunto come tre partner appunto compreso Turismo Torino e con il contributo del comune di Pinerolo sul bando del turismo che era stato appunto aperto nel ottobre 2023 riusciamo a realizzare appunto a coprire 12 tour con una serie di esperienze che appunto vengono offerte all'interno Allora ci sono diverse esperienze quindi che vanno oltre l'idea già lodebole ovviamente di essere spettatori e spettatrici ma noto che ci sono proprio delle vere proprie esperienze quindi si può toccare con mano Pinerolo diciamo così Sì l'idea era proprio questa quindi di coinvolgere altre realtà del territorio perché questa è un po' sempre la nostra mission quando lavoriamo e proponiamo delle cose vogliamo farlo coinvolgendo e facendo rete sul territorio quindi per fare un esempio abbiamo fatto una passeggiata sulla parte alta della collina di Pinerolo raggiungendo Monte Muretto insieme ad un archeologo quindi con la presenza della guida dell'accompagnatore naturalistico e dell'archeologo perché lì abbiamo scoperto appunto saputo che ci sono delle tracce addirittura romane e addirittura primitive a Pinerolo a Pinerolo poco più su di qua esatto un'altra esperienza che abbiamo fatta è quella di andare a vedere i documenti originali conservati nella nostra biblioteca biblioteca agli Audi firmati ad esempio c'è un documento firmato da Napoleone Bonaparte ci sono dei documenti del 600 che citano d'Artagnan siamo andati a vederli e poi con l'aiuto di Nodo che prima hai presentato e con una appunto rappresentante del Nodo abbiamo fatto un laboratorio di calligrafia quindi provando a scrivere e a riprodurre quei caratteri originali cerchiamo di passare la storia in quel caso la storia della città eventi che hanno riguardato la città però portandoli in modo esperienziale nel nostro vissuto ecco avvicinandoli un po' quindi l'idea è quella di offrire un'esperienza il toccare con mano e portare a casa un'esperienza immaginiamo è presente i fumetti quando c'è la nuvoletta nei personaggi che avere questo pensiero che insomma una persona si porta a casa dopo aver vissuto questo welcome tour a Pinerolo qualcosa del genere poi vandalizzando proprio così e allo stesso tempo proprio conoscendo un po' più da vicino alcune caratteristiche ad esempio il 9 giugno faremo due tour in contemporanea uno a piedi e uno in bicicletta che andrà a scoprire parti della nostra collina sul percorso scopri collina che abbiamo realizzato qualche anno fa proprio come associazione made in Pinerolo con il contributo della città di Pinerolo e durante questo tour ci sarà un avvicinamento alla musica del territorio grazie a Dino Tron che è un noto artista e musicista locale e lui ci aiuterà a capire e ad avvicinarci appunto alcuni brani della tradizione occitana e del territorio ad esempio questo è uno degli esempi appunto insomma il programma è lungo arriva fino al 10 di novembre con gli appuntamenti è complesso è ricco come dicevi giustamente tu Barbara prima per avere tutte le informazioni tra l'altro è presente anche la versione inglese di questo calendario del welcome tour dove possiamo trovare tutte le informazioni tutte le informazioni sono online sul sito di Turismo Torino dove è possibile anche proprio prenotarle e acquistarle quindi direttamente online oppure qui proprio alle nostre spalle presso l'ufficio del turismo sempre gestito da Turismo Torino o anche sul sito Made in Pinerolo e sui social di Turismo Torino e di Made in Pinerolo Scopi Collina è uno dei progetti che in chiusura insomma volevo presentare e ricordare con te ne hai parlato anche tu poco fa Barbara Scopi Collina perché Pinerolo non è solo la piazza il centro storico che insomma ci ha visto più di una volta passeggiare che vi consigliamo per la sua bellezza per insomma la bella Pinerolo quella che si vede in centri filmati d'epoca c'è anche la collina una collina che insomma già da alcuni anni si vuole rilanciare vuole offrirsi come spazio da vivere un po' con tutti i sensi immagino sì diciamo che questo progetto che abbiamo realizzato insieme ad alcune aziende agricole ad altri enti in realtà del territorio questo percorso di circa 10 km che si può percorrere appunto liberamente ma che è punteggiato da alcune sagome in coordena ad altezza naturale che rappresentano o personaggi o momenti o leggende del territorio aiuta a scoprire a valorizzare questa appunto parte del nostro territorio insieme proprio e grazie a questo progetto sono nate tante altre idee e tante altre cose tra cui alcune visite guidate alcune feste in collaborazione con i produttori che appunto sono presenti in quella zona faremo anche a luglio in collaborazione con Contro Tempo Theater che è l'altra associazione che ha vinto il bando cultura del comune di Pinerolo faremo delle visite teatralizzate lungo alcuni tratti di questo percorso Scopri Collina e insomma quindi c'è la possibilità di poter scoprire o riscoprire Pinerolo ecco a proposito di riscoprire c'è qualcuno che riscopre Pinerolo sia magari partecipando a più di un tour oppure stessi pinerolesi o stessi pinerolesi che vogliono comunque partecipare a questa esperienza sì certo innanzitutto ci rivolgiamo davvero ai nostri cittadini con cittadini perché molte cose noi stessi appunto non le conosciamo abbiamo persone che ritornano appunto proprio perché ogni tour ha una sua caratteristica quindi non è che visto fatto uno li ho fatti tutti no l'obiettivo è proprio quello di avvicinare sotto diversi aspetti quindi abbiamo sia pinerolesi sia persone che arrivano comunque da fuori ci trovano ci cercano da Torino per dirne una insomma però comunque da altre aree del Piemonte in chiusura Barbara per avere tutte le informazioni per iscriversi per insomma avere un ragguagli sulle varie esperienze che ripeto ancora arriveranno per quanto riguarda il 2024 fino al prossimo autunno 2024 come possiamo fare? seguire sempre Made in Pinerolo e Turismo Torino appunto per tutti gli appuntamenti e oltretutto vabbè su Instagram ovviamente io promuovo anche Visita Pinerolo che è il social della città quindi c'è appunto Visita Pinerolo che promuove su Instagram in particolare e c'è anche l'ufficio del turismo immagino qui tra l'altro vicino a noi è la nostra postazione e qui in via del Duomo loro hanno tutte le informazioni quindi possono dare tutte le informazioni tra l'altro partono anche di tour da qua da via sì sì molti partono da qua alcuni che sono più collinari partono da altri altri punti appunto più vicini dipende però c'è scritto tutto su anche questo volantino che hai in mano e comunque su online trovi tutto biciclette sia muscolari che elettriche tra l'altro sì diciamo che per il percorso Scopricollina quello del 9 giugno consigliamo o di essere molto allenati con mountain bike oppure di avere l'elettrica perché chiaramente c'è anche un po' di salida sono collina ci può stare abbiamo presentato queste belle attività di welcome tour mostriamo il volantino in questo momento in diretta ringraziamo Barbara Alvis per questa attività che ci permette di immergerci insomma nella Pinerolo da altri punti di vista grazie per essere stato con noi ti auguro buon lavoro buon estate imminente insomma c'è molto da fare ma insomma con molto entusiasmo so che avete voglia come me di Pinerolo e come turismo siamo felici di poter aiutare e contribuire grazie Claudio a te grazie a tutti grazie Barbara amici e amiche di RB Radio RB e TV amici e amiche di Pinerolo in diretta dal mercato di Pinerolo di questo mercoledì 29 di maggio il mercato insomma sta continuando a proporre i suoi colori i suoi sapori i suoi suoni i suoi incroci sui banchi del mercato di questo mercoledì siamo arrivati al termine della nostra puntata anche oggi abbiamo incrociato voci, storie e racconti proposte che si svolgeranno nei prossimi giorni qui a Pinerolo in particolare ricordo l'appuntamento con la Notte delle Muse 2024 sabato 1 e domenica 2 di giugno sabato 1 a partire dalle 21 i musei di Pinerolo si aprono offrono spettacoli musica, teatro e la possibilità di poter scoprire le opere tutto ciò che è esposto in queste belle realtà nel fine settimana a Pinerolo abbiamo parlato poi dell'appuntamento di questo venerdì venerdì 31 maggio con la 10.000 degli Acaia con gli amici dei Lions Club di Pinerolo Pinerolo Acaia con l'appuntamento già dal tardo pomeriggio qui per la undicesima edizione della manifestazione gratuita non è gratuita ma c'è un'offerta da dare ma soprattutto podistica e non competitiva dedicata appunto al benessere e allo star bene poi abbiamo parlato con gli amici l'amica del nodo concert space in particolare Alessia con l'Age About Me che ci ha raccontato la sua attività la Proloco di Pinerolo me di Pinerolo il turismo a Torino con il Welcome Tour insomma tanti appuntamenti che ci attendono nelle prossime settimane abbiamo parlato della notte di Deor la notte giornata del tour che passerà da Pinerolo nei prossimi giorni insomma questo è molto altro con la musica di RBA ringrazio il reggire Alberto Ricca Mattia Astesano e Matteo Crespo e ringrazio voi soprattutto per essere stati con noi su RBA ritroverete questa trasmissione nella replica in onda su RBA questa notte a partire dalle 11 e poi nel video disponibile sul canale YouTube vi lascio con gli altri programmi del nostro palinsesto io sono Claudio Petronella e vi auguro di trovare anche oggi tanti ben motivi per sorridere ciao